Pronto? Come va? Sto bene? Ciao Eh bene dai Le mie c'è arrivata? La roba c'è arrivata? E' arrivato? E' arrivato? E' arrivato? Eh no, sto guardando adesso La roba com'è? Si ma non sono veniente Buona? Bene, sto contento Fantastico Saranno contenti i giovani Il giorno d'oggi eh Devi darla via presto eh, mi raccomando eh Cerchiamo di Di fare le cose fatte bene Perché mai Ci siamo eh Poi stamattina sono andato A scrivermi come sulle industrie Faremo cose Grandi Ah Buonissima Veramente ottima Eh si Buonissima proprio E' di ottimo stato Eh Certo Ti ho chiamato un sacco di volte Ma non ti ho mai trovato Sei sempre a segreteria E bisogna un po' che ti fai vedere Sentire Anche tu eh, non sempre io Lo so che mi hai chiamato un sacco di voce Lo so Mi è arrivato anche a correre stamattina E dopo per buona Eh Sì 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 Guarda Stato in aria La partita sembra buona Sta tagliata bene Eh Abbiamo comprato parecchie persone sì Ci abbiamo messo un po' in mezzo tutti Per cui la roba Deve essere sbollinata via bene Vado Anche i carabinieri Polizia Politica E tutto via dicendo Eh mi raccomando eh Cerchiamo di fare i buoni eh Buonizio sì Buonizio sì Sì lo so Beh Abbiamo comprato posta su tutti quanti personaggi Tra politica Un po' di Di polizia Un po' di finanze Poi tutti ce l'hanno messo del suo eh Beh per il momento Non posso farmi vedere quanto è Perché dai Ci sono tante questioni Credo che andrò A Cuba E poi andrò a New York Che è la cosa E poi quando Casimai tornerò Tra qualche Qualche mese Possiamo metterci la cosa In qualcosa di Più Più efficace Ah Devete tornare a Cuba Eh Va bene dai E poi parti per New York Fantastico Mi raccomando la roba eh Che sia svolinata via bene Eh Che sia Trova le persone giuste E fatti valere Gli affari girano eh Eh ci vuole qua Ci vuole che girano gli affari Sino Niente eh Assolutamente Bene Ci sentiamo Mi raccomando la roba eh Che sia stata fuori bene eh Bene Ci sentiamo Ciao 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 Ci sentiamo Bene Ciao ciao Grazie ciao 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 ciao